Grazie a tutti. A via Monego, che saluto e ringrazio. Io ringrazio voi per avermi invitato qui oggi. Grazie del tempo che ci dedica. Questo consigliere è stato un periodo in cui il tema della violenza di genere, la violenza maschile contro le donne in particolare, è stato predominante e ovviamente anche in riferimento alle terribili vicende di carattere nazionale. Però non si parla comunque mai, secondo me, a sufficienza di questa questione, di questo tema. Conviene? Certo che convengo. Anzi, mi preme proprio dire che il 25 novembre non è solo quel giorno del calendario in cui cade la giornata contro la violenza sulle donne. Ma dovremmo veramente lavorare tutti i giorni dell'anno in questa direzione. Ma tutti, enti, istituzioni, cittadini e cittadine, fare proprio rete su questa tematica. Perché credo che solo lavorando tutti insieme riusciremo, forse, ma ce lo auguriamo, a cambiare questa cultura che produce questi effetti devastanti. Questo sicuramente. E quali sono i compiti della consigliera di parità? La consigliera di parità si occupa prevalentemente di discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro. Ma si occupa anche di sensibilizzare e di fare formazione, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche negli enti, sul tema delle pari opportunità. Perché è molto importante che ci si soffermi su questa parola, pari opportunità, e si capisca anche che cosa vuol dire. Quindi uno dei compiti della consigliera è appunto anche questo, è promuovere eventi in tal senso per formare e per sensibilizzare sulla tematica. Quindi ritorniamo proprio al discorso che si faceva in partenza, la conoscenza, la formazione, il parlarne. La provincia di Belluno, anche come enti, come comuni, come si colloca dal punto di vista anche proprio delle reti, delle consigliere di parità? Siamo messi bene? Ci sono tanti comuni o pochi? Allora, la consigliera di parità provinciale è una solo, mentre i comuni hanno o l'assessore alle pari opportunità o quantomeno un consigliere o una consigliera con delega alle pari opportunità. Infatti uno dei compiti appunto di cui parlavo prima della consigliera è anche interfacciarsi con gli enti per capire dove non c'è la persona, il consigliere o la consigliera o l'assessorato con la delega alle pari opportunità, capire perché non c'è e fare in modo che la nomino. Io ho scritto una lettera qualche mese fa a tutti i comuni e stiamo lavorando proprio in questa direzione, nel senso che dove non c'è mi hanno contattato per capire quali sono i compiti che una consigliera o un consigliere dovrebbe avere e quindi stiamo lavorando proprio in questa direzione perché è molto importante. In modo che si vengano a creare quindi delle commissioni vere e proprie, insomma, per estendere ulteriormente questa cultura. Allora, le commissioni è già una cosa diversa perché la commissione richiede chiaramente un altro tipo di impegno perché la consigliera o il consigliero o l'assessore è una persona che ha la delega, mentre le commissioni chiaramente non sono all'interno del consiglio comunale ma fanno parte dell'amministrazione. Attualmente in provincia di Belluno ce ne sono solo tre, ce n'è una a Belluno, una a Pontanelle Alpi e una a Feltre. Mi preme evidenziare quella di Feltre che esiste dal 2008, quindi è stata una delle prime commissioni sul territorio provinciale. Io sto lavorando in questa direzione, almeno nei comuni quelli più grossi, che ci sia la volontà di costituire una commissione. E che, ripeto, la commissione diventa un po' più articolata come... Attività stessa, certo. Però, insomma, è un obiettivo molto importante e noi la seguiremo in questo, ecco, per vedere gli sviluppi. Senta, ritorniamo adesso sulle varie iniziative. Lei ha citato naturalmente la giornata del 25 novembre. So che a Palazzo Piloni c'è stata una particolare iniziativa, proprio in occasione di questo evento. Infatti, come consigliera di parità, quest'anno ho proprio voluto che ci fosse una mostra a Palazzo Piloni. È una mostra che si chiama Non chiamatelo raptus, della vignettista anarchica, che è una famosa vignettista in arte Stefania Spanò. E sono 30 tavole che rappresentano la violenza di genere. Il titolo si chiama Non chiamatelo raptus, quindi non avrebbe neanche bisogno di essere commentato. Rappresenta un po' anche tutto quello che è successo nell'ultimo periodo. I fatti, ma anche come sono stati affrontati, anche dal punto di vista mediatico. Perché, infatti, su queste tavole della vignettista anarchica è evidenziato il linguaggio che spesso usa la stampa. È un linguaggio non appropriato e è qui che noi dobbiamo lavorare, in effetti. Perché si parte dal linguaggio per cercare di cambiare la cultura. E le vignette sono pungenti, sono taglienti, ma sono molto efficaci. C'è stata la partecipazione anche degli studenti? Assolutamente sì. Infatti, diciamo che la mostra, per quanto mi riguarda, ovviamente era aperta a tutti. Ma in particolar modo ci tenevo che venissero gli studenti, perché è un linguaggio molto diretto anche proprio a loro. Perché effettivamente chi dobbiamo formare per cercare di cambiare la cultura in questo momento sono, beh, ovviamente anche gli adulti, ma in particolar modo i ragazzi, i giovani e le giovani. Certo, quindi lei ritiene opportuno anche tutto questo progetto a livello ministeriale, insomma, di fare attività di formazione, di sensibilizzazione, di educazione nelle scuole. Sì, perché comunque i ragazzi vanno formati, i ragazzi comunque vanno formati in questa direzione e sensibilizzati. Cioè, bisogna far capire che il linguaggio che usano è molto importante, che il senso del possesso, della gelosia, cosa produce il senso del possesso, della gelosia. Quindi è veramente molto importante. Infatti a vedere la mostra sono venute delle classi medie della scuola media Ricci, della scuola media delle terze medie di Ponte Nelle Alpi e anche alcune classi dell'Istituto Brustolone. Quindi sono venuti solo maschi. E per me è stato veramente bello colloquiare con loro, perché leggevano una delle tavole, quella che più li aveva colpiti, e poi mi dicevano anche il perché. E' stato veramente molto significativo. Io devo dire che sono rimasta veramente molto contenta. Ecco, abbiamo parlato del mondo della scuola. Parliamo adesso del mondo del lavoro. Che attività ha in corso in questo momento con i rappresentanti del mondo del lavoro? Mi riferisco sia alla parte sindacale, ma anche la parte datoriale, Monego. Allora, parliamo subito della parte sindacale, con la quale avevo già comunque collaborato l'anno scorso, che avevamo fatto dei seminari di formazione e di sensibilizzazione proprio contro le discriminazioni e le molestie nei luoghi di lavoro, e erano dei seminari indirizzati proprio all'RSU, all'RSA aziendali. E' stato un ciclo di cinque seminari che ho visto che sono stati accolti dai rappresentanti sindacali con molto interesse. Da quando ho fatto l'ultimo seminario è trascorso più o meno un anno. E io, soprattutto in questo ultimo periodo, mi trovo comunque a dover affrontare dei casi dove ci sono degli stalking, ci sono delle violenze, delle moleste nei luoghi di lavoro. E mi rendo conto comunque che serve ancora formazione, perché la formazione è indispensabile. Proprio perché gli RSU aziendali devono essere nei luoghi di lavoro le persone che danno il primo supporto alla lavoratrice o anche al lavoratore che subiscono questo tipo di discriminazioni e di molestie. Danno comunque supporto e gli strumenti per cercare di risolvere questo problema. Proprio questa mattina ho avuto un incontro con la consigliera regionale e le colleghe provinciali del Veneto e c'erano le tre referenti regionali delle tre sigle, le maggior sigle sindacali. E effettivamente abbiamo avuto un lungo confronto costruttivo, perché ho visto che io sono stata la prima a esprimere comunque e a manifestare l'esigenza di questi corsi all'interno delle aziende. E stiamo cercando di lavorare in sinergia con tutte per cercare di trovare un format da fare tutte assieme proprio per riproporre questi corsi che io ho già fatto, che vedo che veramente servono e sono fondamentali. Quindi un modello vincente. Parliamo invece della parte datoriale. La parte datoriale, perché effettivamente la consigliera di parità non opera solo con i sindacati, ma anche con le associazioni di categoria datoriali. Abbiamo fatto a maggio comunque un convegno sull'opportunità della certificazione di parità di genere, che non era propriamente un convegno sulla certificazione, ma era comunque in preparazione. dove abbiamo comunque, sono state coinvolte tutte le associazioni di categoria sul territorio. E si era parlato appunto dell'importanza della certificazione di parità di genere, che purtroppo a Belluno ci sono pochissime certificazioni, ma non solo a Belluno. Anche in Veneto mi risulta che siano non più di 23-25. È una strada che deve essere supportata. So che lei è stata protagonista, per esempio, di recente anche ad un incontro in sede di Confartigianato, che sappiamo aver ottenuto, vero, questa certificazione tramite la propria Confartigianato Servizi. Insomma, come valuta questo? Io lo valuto veramente, positivamente. Anzi, sono stata veramente felicissima che mi abbiano invitato alla conferenza stampa, perché fra l'altro loro a Belluno sono forse in tre che hanno la certificazione di parità di genere. E quindi insomma uno stimolo ulteriore per fare sempre meglio. La porto su un ultimo tema, Presidente, Consigliera, mi scusi, stavo pensando appunto alla questione del centro antiviolenza, no? Pensavo al mondo di Belluno Donna e questo è un nodo delicato. C'era il pericolo, il timore che insomma l'attività non potesse essere più garantita, viste le norme, visti gli aggiornamenti, no? In materia. Sì, stiamo lavorando in questa direzione oramai da quest'estate, perché c'è questa legge intesa Stato-Regione che prevede che i centri antiviolenza debbano, uno dei vari requisiti che richiede questa intesa Stato-Regione è che i centri antiviolenza diano la reperibilità H24, se non si adegueranno a questa normativa non potranno più accedere ai fondi, quindi diventerebbe veramente un problema. Allora se lo guardiamo soprattutto a livello territoriale che abbiamo un unico centro antiviolenza, questo significa che se non cambiano questa legge il centro antiviolenza sarà costretto a chiudere. Tra l'altro oramai le tempistiche sono molto strette, perché la legge dovrebbe entrare in vigore credo alla fine marzo, quindi dal 24 aprile, credo. So che comunque c'è stato anche un contatto con la Ministra delle Pari Opportunità, Roccella, per spiegare e per chiedere comunque che venga cambiata questa normativa. e la Ministra doveva fare un'indagine il 30 di novembre a livello proprio nazionale per vedere se quanti centri antiviolenza erano disponibili adeguarsi a questa normativa. Ancora non si sa l'esito, però la consigliera di parità, io come consigliere di parità con il Presidente della Provincia, stiamo lavorando appunto come ho anticipato prima da quest'estate in questa direzione, ossia io mi sto occupando chiaramente del territorio di Belluno, ho chiesto che comunque per Belluno ci sia una deroga, però credo che a questo punto, essendo che il problema riguarda proprio la Regione, ma è anche a livello nazionale, io credo che a breve ci saranno comunque delle conferme in questo senso. Perché noi siamo in collegamento consigliere e Presidente con l'assessora Lanzaringa che sta lavorando in questa direzione, quindi io penso che a breve ci saranno delle conferme in questo senso. Grazie, grazie Flavia Monego, naturalmente ci sarebbero ancora tante altre cose da dire, ma il tempo a nostra disposizione ormai si è concluso, io le auguro davvero un buon lavoro e la ringrazio per quanto fa come donne, insomma per tutte le donne, ecco per la comunità. Beh io ringrazio voi per darmi sempre l'opportunità di spiegare quello che faccio, grazie. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie a tutti.